Adesso parliamo di poesia e di rime. La cosa più importante delle rime e delle poesie è la visione che era italiana. Per fargli un esempio parliamo di un poeta contemporaneo, Giorgio Eccarduttori. L'albero che tendevi la parcoletta meno, e il verde meno crema, e i bei del minuto. Perché la poesia è un poeta contemporaneo, come un, due, 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 due. L'albero che tendevi la parcoletta meno crema. Dunque, a questo punto parliamo di rime bacete. Non è tanta la rima che mi interessa quando la metrica. Vi faccio un esempio. Che ne sai d'un bel campo di greno? Che ne sai d'un amore profeno? Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai? Quante volte lo devo dire che si bussa prima di entrare di sgraziato maledetto, se no ti spezza le ossa e capocolla e ti mette in destina a tracollo? Caffè. Subito. Scusate, raga. Quanto zucchero? Te lo dico io quando basta. Dunque, vi vorrei chiarire di nuovo, per chi non lo sapesse, che io non sto molto bene. Allora il dottore mi ha ordinato di fare colazione in classe, perché ho avuto una piccola depressione depressiva e comprensiva, e mi sento preso. Prego. Basta. Sgraziato maledetto, è vero? Ma sì? Basta. Vignette. Vignette. Subito. Scusate, ragazzi. Prego. Ci risiemo, eh? Anacleto? La cerbottina. Quale cerbottina? La cerbottina di tua madre. Ma non ce l'ho. La cerbottina, maledetta succhiatore di creme che non c'è altro. Ecco la cerbottina. Ah, la nucia. Mi devo sfogare, madonna. Dammi le mani. Che? Le mani. Ah, le mani. Le mani. Le mani. Fuori.